Mettere in contatto tra loro gli studenti del Politecnico di Bari e le aziende, un modo per conoscersi, cogliere nuove opportunità lavorative e di crescita, conoscere i responsabili aziendali e partecipare a convegni, giunge la sua ottava edizione l'iniziativa Career Fair Poly Bar, in questo 2023 due le giornate dedicate il 7 e 14 giugno, con i discontri degli studenti che continuano ad essere più che positivi. Avere un contatto diretto con le aziende, la cosa comoda è poterle avere tutte nello stesso posto, quindi senza dover andare in giro, mandare il curriculum che magari spesso vengono ignorati, così facendo invece si ha un contatto diretto, si può capire, anche magari evitare posti che non ci interessano. A te cosa piacerebbe fare? Lavorare nel campo robotico. Sono molto felice di vedere tutta questa partecipazione in un Politecnico che appunto, stando al sud, non siamo molto ricercati, però il Politecnico di Bari sta facendo il suo e ci sta risolvendo. È una giornata molto interessante perché dà la possibilità a noi studenti, laureandi e anche laureati di già, di interfacciarsi con quello che è il mondo del lavoro, quindi comunque avere la possibilità di optare su diverse scelte. Spesso noi se appunto qui dal sud ci spostiamo o comunque cerchiamo di andare oltre e invece magari rimanendo sul nostro territorio possiamo fare tanto. Sono contenta che appunto queste cose vengano proposte dal Politecnico e sono sicuramente fiera di questo ente che fa tanto per i giovani. A te cosa piacerebbe fare? Io faccio già quello che mi piace, però non si sa mai, si possono aprire anche tante altre strade e sono anche qui per capire questo lato.